Musica Nelle Marche prende il via il piano vaccinazioni agli over 80, la regione pronta a somministrare la prima dose dal 20 febbraio ad oltre 130 mila anziani Tre castelli in lutto per la morte di Don Mario Mancini, parroco emerito di Ponterio domani l'ultimo saluto a sacerdote scomparso all'età di 93 anni Altri due commissari straordinari per le opere strategiche delle Marche l'assessore Francesco Baldelli chiede al governo figure di alto profilo per l'arretramento della ferrovia e il collegamento tra la statale adriatica e il porto di Ancona Entro l'estate la rocca malatestiana di Fano sarà messa in sicurezza tetto nuovo e restauro della muratura a lato ferrovia durante i lavori scoperti un forno e una grotta il sindaco punta all'apertura al pubblico della terrazza A Marotta di Mondolfo partiti i lavori di riqualificazione del molo danneggiato dalle mareggiate avviato anche il progetto per la manutenzione delle scogliere Presentata l'immagine ufficiale del carnevale di Fano il voulon al centro dell'opera di Carlo Simoni ricca di colori e simboli della città per lanciare un messaggio di gioia e di speranza Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia Lo avete sentito nelle Marche Parte il piano vaccinazione per le persone con più di 80 anni e da venerdì sarà possibile prenotarsi L'ha annunciato oggi pomeriggio l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini durante una conferenza stampa che ha seguito per noi Letizia Marchionni Partirà il 20 febbraio la somministrazione dei vaccini agli over 80 marchigiani circa 133.000 persone che al netto degli ospiti di case di riposo e RSA per i quali si stanno completando le vaccinazioni nella prima fase si riducono a 124.000 con la stima di un 70% che potrebbe richiedere di vaccinarsi Ad annunciarlo è l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini il quale fa sapere che sarà possibile prenotarsi a partire dal 12 febbraio alle 14 in due modalità ovvero tramite la piattaforma di poste italiane tramite il link in sovraimpressione oppure per chi non ha la possibilità di fare domanda online sarà possibile contattare il numero verde 800 00 9966 All'atto della prenotazione sia in via telematica che telefonica l'utente conoscerà sede e orario in cui avverrà la somministrazione del vaccino Il modello seguito sarà quello dello screening i luoghi selezionati sono infatti i palazzetti dello sport e i luoghi all'aperto dove i cittadini potranno recarsi in tutta sicurezza per ricevere i vaccini Pfizer o Moderna Nella provincia pesarese le location scelte sono la Vitrifrigo Arena di Pesaro il Codma di Fano ed il Palacarneroli di Urbino Noi contiamo in questo modo in 20 giorni di somministrare la prima dose del vaccino Pfizer e Moderna a 120.000 utenti insomma che lo potranno richiedere Noi abbiamo fatto un piano fino al 5 marzo per cui le abbiamo già immagazzinate queste dosi e se continuerà la consegna di questi vaccini saremo in grado naturalmente di proseguire e di completare il piano di vaccinazione in 20 giorni Per le persone che non sono in grado di deambulare o per chi non può essere accompagnato ha continuato Salta Martini allestiremo nei prossimi giorni una piattaforma di prenotazione ed un numero di telefono specifici In questo caso la vaccinazione sarà eseguita dall'Asur mediante i medici di medicina generale o dalle altre strutture territoriali dell'Adi In giornata, poi aggiunto l'assessore regionale, è previsto anche l'arrivo di un carico di vaccini AstraZeneca Il piano è somministrarli al personale docente e ata delle scuole, alle forze dell'ordine e dal personale dei servizi pubblici essenziali Oggi pomeriggio è fissata una conferenza Stato-Regioni perché il piano, come avete avuto modo di constatare, è un piano che si muove con tutte le regioni italiane all'unisono cioè non ci sono delle regioni che somministrano i vaccini a una categoria piuttosto che a un'altra E nelle Marche oggi sono stati registrati 12 decessi legati al coronavirus Tra le vittime è anche un'anziana di 80 anni e residente a Fossombrone I nuovi positivi sono 270, di cui 37 nella provincia di Pesero-Urbino Aumentano lievemente i ricoveri negli ospedali In terapia intensiva c'è un paziente in più, mentre in semi-intensiva 7 degenti in più rispetto a ieri E la comunità di Tre Castelli è in lutto per la morte di Don Mario Mancini parroco emerito della parrocchia Beata Vergine del Rosario di Fatima Ad esprimere cordoglio anche il sindaco Marco Sebastianelli e l'amministrazione comunale a nome di tutta la cittadinanza Una importante figura di riferimento, quella di Don Mario 93 anni, da sempre vicino alle famiglie, agli anziani, ai giovani È stato il primo parroco nel 1961 della parrocchia di Ponterio in cui è passato gran parte della sua vita fino al 2012 contribuendo alla crescita spirituale e sociale della cittadinanza La città di Tre Castelli, si legge in una nota porge con riconoscenza, affetto e stima il saluto a un uomo che ha trascorso la vita rivolgendo attenzione alla preghiera e alla sua comunità I funerali del sacerdote verranno celebrati domani mercoledì 10 febbraio alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Ponterio La tumulazione invece è prevista per giovedì alle ore 9 nel cimitero Le Grazie di Senigallia Ed ora una notizia che è arrivata nel tardo pomeriggio di oggi nella nostra redazione risultato positivo al Covid-19 Armando Trasarti, vescovo della diocesi di Fano Fossombrone Caglipergola attualmente ha sintomi lievi e lamenta solo una febbriciola non accusa disturbi respiratori e viene attualmente seguito da un punto di vista clinico Invitiamo i fedeli e tutti coloro che lo conoscono si legge in una nota della diocesi concordata con il dottor Frausini a ricordarlo nella preghiera e a seguire con fiducia e speranza il decorso della malattia Cambiamo argomento e parliamo di infrastrutture perché l'assessore regionale Francesco Baldelli ha chiesto altri due commissari straordinari Sentiamo Altri due commissari straordinari per altrettante opere strategiche l'arretramento della linea ferroviaria e il collegamento tra la statale adriatica e il porto di Ancona noto anche come ultimo miglio è quanto chiede la Regione Marche al governo e l'annuncio arriva dall'assessore alle infrastrutture Francesco Baldelli La Regione Marche vuole tagliare i tempi per la realizzazione di opere importanti per superare il gap infrastrutturale in cui la nostra comunità regionale si trova La nomina di un commissario per il collegamento fra il porto di Ancona e la statale 16 passando il nodo dell'ospedale di Torretta di Ancona e un commissario per la progettazione dell'arretramento e quindi della realizzazione dell'alta velocità e alta capacità lungo la linea adriatica, quella ferroviaria Si tratta di un intervento di progettazione di circa 305 milioni di euro per un importo complessivo dell'arretramento e della realizzazione dell'alta velocità nel tratto marchigiano tra Bologna e Lecce di oltre 9 miliardi di euro di investimenti La Regione è anche la prima a intervenire sulla reazione e la sanificazione delle scuole avete stabilito i criteri in poco tempo? Abbiamo stabilito come promesso in tre settimane i criteri per la ripartizione di fondi fra i comuni, un intervento strutturale, il primo in Italia, la prima regione italiana che lancia questo modello, far rientrare i ragazzi in sicurezza una sicurezza che non è stata garantita dal Governo nazionale per cui abbiamo deciso di investire già da subito 2 milioni di euro che divideremo il 70% destinati ai comuni marchigiani e il 30% alle province il 50% dell'ammontare complessivo destinato ai comuni per i piccoli comuni per dare la stessa dignità alle grandi città delle Marche ma anche ai piccoli borghi 4 mila euro ad aula per la ventilazione meccanica controllata che riuscirà a garantire, ci dicono gli studi scientifici, una sicurezza anti-Covid ma in futuro anche una sicurezza contro le sindrome influenzali Il provvedimento della giunta regionale è stato preso da esempio oggi dalla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni durante le dichiarazioni alla stampa al termine delle consultazioni la scuola infatti è una delle priorità del Governo Draghi Allora invece di fare tanti giri di parole abbiamo portato al Presidente incaricato l'esempio virtuoso della Regione Marche governata da un esponente di Fratelli d'Italia, Francesco Acquaroli che ieri ha stanziato 2 milioni di euro per consentire che vi sia nelle aule delle scuole la ventilazione meccanica controllata che è secondo gli esperti europei il modo migliore chiaramente per rendere l'aria salubre e per ridurre la contaminazione da Covid e non solamente quindi consentire agli studenti di stare in sicurezza Il Comune di Pesaro stanza 400 mila euro per affitti e bollette alle famiglie in difficoltà lo ha annunciato il Sindaco Matteo Ricci con gli assessori al bilancio Riccardo Pozzi e alla sostenibilità Sara Mengucci si tratta di un incremento di 150 mila euro rispetto ai 250 mila che il Comune aveva deciso di stanziare nel bilancio di previsione 2021 un contributo straordinario, precisa il Sindaco per far fronte alle nuove criticità emerse con l'emergenza sanitaria entro la fine della prossima settimana verrà pubblicato il bando sul sito del Comune con modalità e termini di presentazione della domanda Sopraluogo del Sindaco Massimo Seri dei Tecnici questa mattina alla Rocca Malatessiana di Fano dove proseguono i lavori di riqualificazione durante le operazioni di pulizia sono emersi anche un forno e un piccolo spazio di due metri con una canna fumaria sono partiti nel mese di dicembre i lavori di rifacimento del manto di copertura del Salone Superiore della Rocca Malatessiana Fano l'intervento che rientra nel progetto complessivo di efficientamento energetico consiste nell'inserimento dell'isolante e di un tetto ventilato che permette d'inverno di riscaldare al meglio l'ambiente mentre in estate consente la fuoriscita dell'area calda per abbassare la temperatura all'interno dei locali adibiti in passato alle scuderie proprio qui infatti sostavano i cavalli che raggiungevano il piano superiore attraverso una rampa posizionata dove oggi ci sono queste scale per i lavori al monumento sono stati stanziati 250.000 euro comprensivi della pompa di calore installata lo scorso anno 101.000 euro invece sono destinati al restauro e alla messa in sicurezza della muratura lato ferrovia Manca soltanto il rimontaggio dei coppi, alcuni dettagli quindi nel giro di breve contiamo di smontare il cantiere insomma Durante il sopralluogo l'ingegnere Cai Terzi ci ha mostrato anche delle importanti scoperte fatte durante i lavori di pulizia a lungo il camminamento utilizzato al tempo per i cavalli e i servizi igienici Infatti era dagli anni 80 che questa zona non veniva ripulita da erbaccio e pianti infestanti ed oggi dopo aver rimosso la vegetazione sono state notate delle fessure e buchi sospetti Stiamo anche pensando di ovviamente sfruttare il ponteggio esistente per mettere in sicurezza diciamo le parti più alte sicuramente quindi recuperare le parti più alte Nel fare questo alla base ci siamo imbattuti in una piccola grotta che abbiamo scoperto e questo insomma è con alcuni detriti come succedeva spesso in questi casi sono anche degli elementi di ceramica eccetera Abbiamo l'intenzione di rimetterlo a posto, di approfondire lo scavo ma con successivi interventi Scoperto anche un architrave in arenaria con un'apertura che secondo gli esperti potrebbe trattarsi di un cammino particolarmente attento ai racconti del direttore dei lavori il sindaco di Fano Massimo Seri che spera di far mettere in sicurezza entro il prossimo anno anche la terrazza Sì abbiamo fatto questo sopraluogo per vedere lo stato dell'arte e dei lavori di restauro che continuano qualche anno fa abbiamo ridato vita a questo spazio straordinario che è diventato un contenitore culturale, ricreativo però ha un potenziale ancora molto forte anche questo posto dove siamo adesso ha forti suggestioni una terrazza sul mare con l'eremo di Montgiove alle spalle e quindi è uno spazio che può essere vissuto e direi goduto per cui a testimonianza di questa città che ha veramente dei patrimoni che non sono statici ma sono dinamici nella quale possiamo organizzarci tante belle cose ecco questa è la sfida che noi stiamo raccogliendo quella di continuare a valorizzare la città per renderla viva per chi la vive ma soprattutto per farla sempre più attrattiva per la gente abbiamo una bella città e chi la amministra è giusto che la valorizzi rimaniamo a Fano per parlare di scogliere perché continua il botte risposta tra il sindaco di Fano Massimo Seri e Stefano Guzzi l'assessore regionale ribadisce ci sono dei ritardi adesso mettiamo tutto per iscritto io l'altro giorno non replico nel senso che io non voglio far polemiche nel senso che io l'altro giorno sono venuto a Fano da assessore regionale ad avvisare l'amministrazione comunale di Fano che causa una serie di ritardi che si stavano perpetrando nella piarra d'appalto per le scogliere di Metroriglia si rischiava di perdere un finanziamento finita quella riunione io ho rilasciato delle dichiarazioni alla vostra emittente ad altri giornalisti il sindaco il giorno successivo se l'è presa perché sembra che io l'abbia fatto di nascosto quando invece l'ho fatto all'interno della sala della Concordia della residenza comunale quindi a casa tra virgolette del sindaco sono qui semplicemente a precisare questo che il ritardo c'è da parte del Comune di Fano e del Ministero perché qui il protocollo diceva che nel 2018 ha firmato l'accordo e entro il 2020 dovrebbero essere finiti i lavori ovviamente non sono finiti c'è stata una proroga al 2022 però da questo protocollo si evince che entro gennaio 2021 deve essere approvato il progetto non è stato approvato entro ottobre occorre fare la grada d'appalto entro il 2022 rendi contare tutti i lavori finiti 4 milioni di euro secondo me siamo molto stretti coi tempi io bonariamente l'altro giorno ho subito a dirgli che se lavoriamo insieme noi possiamo cercare di spostare come regione il finanziamento al 2025 per non perderlo visto che si è un po' risentito io adesso glielo ho messo per iscritto con una lettera ufficiale dalla regione Marche a questo punto se il sindaco pensa di non essere in ritardo conclude tutto il 2022 mi fa piacere se pensa che qualche rischio c'è basta che mi risponda questa lettera chiedendo alla regione Marche di spostare i finanziamenti io sono più che mai disponibile lavoro con tutti i sindaci delle Marche ancora più volentieri lavoro insieme al sindaco di Fano se c'è condivisione sul progetto ovviamente e sulla finalità e sono partiti ieri mattina i lavori di riqualificazione del molo di Marotta danneggiato a seguito delle mareggiate degli anni scorsi avviato anche il progetto per la manutenzione delle scogliere vediamo ci troviamo qui a Marotta nel comune di Mondolfo dove da ieri sono iniziati i lavori di riqualificazione messa in sicurezza del molo nuove ringhiere sistemazione della pavimentazione e riaffioramento della scogliera a protezione del molo sono partiti i lavori di riqualificazione del molo di Marotta danneggiato a seguito delle mareggiate degli scorsi anni gli interventi fa sapere il primo cittadino di Mondolfo Nicola Barbieri sono finanziati con circa 50.000 euro dalla regione andiamo a completare la messa in sicurezza e la riqualificazione del molo in questi anni come amministrazione comunale abbiamo fatto diversi interventi dalla nuova illuminazione pubblica a led ma anche la nuova pavimentazione qui della piazzetta del molo i mosaici che sono stati realizzati grazie all'associazione Chiaroscuro quindi tornerà a splendere uno dei luoghi simbolo della nostra città a fine 2020 ha poi continuato il sindaco Barbieri abbiamo affidato l'incarico per la progettazione di interventi di manutenzione delle scogliere su tutto il litorale marottese progetto avviato anche in collaborazione con l'associazione Bagnini l'obiettivo è quello di arrivare ad avere un progetto definitivo per la primavera di quest'anno perché senza progetti non potremo partecipare ai bandi e quindi ottenere i finanziamenti sulla difesa della costa ci puntiamo molto nel 2019 abbiamo fatto un intervento importante di potenziamento delle scogliere a Marotta Sud abbiamo visto che ha avuto ottimi risultati e vogliamo continuare anche in altre zone coinvolgendo la regione soprattutto sulle zone più critiche della nostra città in particolar modo nella zona centrale di Marotta Il manifesto del Carnevale di Fano quest'anno è a firma dell'artista e nipote di Federico Seneca Carlo Simoni questa mattina è stata presentata l'opera Raffigurante il Voulon i luoghi della città e anche Dante Alighieri in un tripudio di colori Filippo Pucci All'interno della sala della Concordia del Comune di Fano questa mattina l'ente carnevalesca ha presentato il manifesto ufficiale del Carnevale di Fano 2021 un'opera firmata a Carlo Simoni Colorato, gioioso che dà energia e speranza sono questi gli elementi distintivi che il pittore e attore di fama nazionale nonché nipote di Federico Seneca ha voluto richiamare nel manifesto che accompagnerà dall'11 al 16 febbraio tutti gli appuntamenti dedicati alla manifestazione più antica d'Italia Tra le raffigurazioni oltre al Voulon i luoghi di Fano i caratteristici della città e un quadro raffigurante Dante Alighieri tema di quest'anno La cosa bella di questi simboli sono sempre la lotta contro ciò che non è bene per la società ecco e io l'ho messo al centro su un piatto che è un pulpito diciamo però un pulpito di benessere di speranza di gioia di voglia di energia di vita e quindi vale per tutti e per tutte le età ho acceso molti colori come vedete proprio per quello ho voluto proprio un pochino dire guardate che la vita è fatta di tante sfumature di tante diversità e se ci mettiamo tutti insieme troviamo un benessere generale soddisfatta di questa importante collaborazione la presidente dell'ente carnevalesca Maria Flora Gian Marioli sono tre anni che abbiamo ripreso la tradizione dei manifesti d'autore non potevamo non chiedere a Carlo Simoni di offrire alla sua città una una sua opera ed ecco ha prodotto direi un manifesto strabiliante con dei colori accesi allegri che mettono voglia di vivere speranza e penso che in questo momento particolare sia proprio adatto ovviamente lo ringrazio e insomma rientrerà nei grandi manifesti d'autore del carnevale di Fano alla conferenza stampa presente anche l'amministrazione con il sindaco Massimo Seri ed Echiel Lucarelli stiamo dando speranza detto l'assessore a quei mondi che in questo momento fanno fatica a vivere vedere i tanti artisti che si mettono in gioco con la loro passione con la loro arte la creatività le tante persone che lavorano comunque dietro questo momento che stiamo realizzando apre il cuore e dal cilindro del VLON esce questo tricolore che è un po' un segno di unità quindi un messaggio bello per il futuro futuro che ovviamente vogliamo vedere un'estate più bella più aperta e quindi la speranza di fare delle attività che possano far ricadere veramente delle economie sulle attività economiche e tra poco trasmetteremo una nuova puntata di Guarda Chi C'è dedicata alla finanza e alla solidarietà Paolo Notari intervista Rosaria del Balzo Ruiti che è presidente della fondazione Carima ma anche della Croce Rossa di Macerata a seguire la sesta puntata dei dolci di carnevale ricetta di questa sera castagnoli tradizionali allora buona serata con i nostri programmi arrivederci domani grazie a tutti Grazie a tutti.